Ciao a tutti e benvenuti nel quinto videogame log e con sfondo con una partita di Hitman Absolution nella modalità contratti volevo parlare appunto di alcuni cambiamenti che intendevo fare al canale innanzitutto ho deciso che farò un altro ritorno all'origine cioè questo stanno nel canale ha subito un bel po' di cambiamenti nel tempo sono passato dal fatto di fare solo tutorial, il fatto di cercare di fare soltanto gameplay poi sono tornato a fare solo video tutorial e così via invece ho deciso di tornare proprio alle origini in origini quando nei primi tempi del mio canale che avevo appena creato faccio stile video tutorial che gameplay quindi la mia idea per il canale sarebbe quella di fare un video almeno ogni 15 giorni quindi sono più o meno due video al mese e alternare video tutorial a video... sui videogiochi appunto sui video tutorial ho ancora tanti argomenti di cui parlare c'ho gli script di Doom Builder 2, c'ho qualcosa ancora magari di 3 ma anche poi in futuro Unity potremmo cominciare a parlare con Unity Rd per quanto riguarda i videogiochi sarà una cosa un po' varia potrei fare gameplay, potrei fare co-op, potrei fare sfide le categorie che trovate sul mio secondo canale quelle categorie li potrei portarle nel primo quindi quando io faccio due video al mese quando faccio video di un gioco potrei fare un di quelle categorie quindi magari potrei fare un gioco retro potrei fare qualsiasi cosa diciamo che riguardano i videogiochi e anche recensioni anche in futuro quindi il canale secondario appunto lo stavo parlando diventerà un canale di sicurezza nel senso che sarà inattivo e non pubblicherò più video su quel canale ma comunque rimarrà aperto perché c'è solo comunque dei video di alcune serie che appunto volevo continuare sul mio canale principale adesso e in più comunque metti che succede qualsiasi cosa nel mio canale principale o comunque un canale di riserva su cui andare su cui sapete che sono io quindi sapete che ho un altro canale a cui fare riferimento torno a parlare invece delle serie che volevo fare ho già registrato dei video su una mod per Doom che si chiama Scallano 667 Shuffle e in pratica ha preso una marea di nemici una marea di armi da F7 Realm che è il sito quello che vi consiglio appunto se vi servono materiale per le vostre mod di Doom appunto ha preso questi mostri ha preso queste armi e le sostituisce alle armi dei nemici del vero Doom però in modo randomico perché ci sono veramente un'infinità di nemici e tutti questi nemici sono sostituiti a quali il muro però non in modo completamente casuale perché comunque ogni nemico ha una sua categoria ad esempio al posto di un imp non potrà mai spawnare un cyberdemon e viceversa quindi pensavo di fare appunto questa mod e sarà sul primo capitolo di Doom 1 poi pensavo anche di continuare la mod scusate la mod c'è la mod c'è la mod che sto già facendo sul secondo canale adesso ho intenzione di portarla sul primo questo è tutto quello che voglio dire spero che questa nuova innovazione del canale vi piaccia e vi sia il vostro gradimento il prossimo video caricherò dopo questo sarà appunto un il primo su Scallano 6.7 Shuffle la mod di Doom e poi dopo continuo a alternare tutorial e video di gameplay bene fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti